Ciao a tutti, questa è la trasmissione magia stregoneria Paganesimo che va in onda ogni giovedì da Radio Gama 5, delle ore 15 alle ore 16 e 30, delle 19 alle 20. Claudio si è preso un giorno di pausa, di riflessioni, di ferri, di rilassamento e perciò oggi e questa sera saremo assieme e ci sarò solo io in trasmissione. Io parto come sempre, come abitudine, nella nostra trasmissione per quanto riguarda ricordare vari appuntamenti, in questo mese ce ne sono parecchi. Parto da un appuntamento che è il più distante come tempo, come impegni, come cose, che però è importante per quanto riguarda la nostra comunità, il nostro paese, la nostra politica e la situazione. Tutti quanti voi sapete che le elezioni si stanno avvicinando, che c'è una corsa di tutti i partiti, tutti i movimenti, tutti i gruppi a cercare il voto appunto dei cattolici. E poi di avere dei voti che non ci sono, sono disposti a tutto. Questo non è perché la classe politica ci sia venduta, ci sia compromessa, ma perché in realtà la classe politica si è convertita. Nel senso che si è convertita a un fondamentalismo cristiano, monoteista, pericolosissimo. Fra le tante cose che vengono messe in discussione e compromesse o che vengono alterate nella nostra società, c'è anche la legge sull'aborto, la famosa legge 194. E allora io voglio ricordare che sabato 14, alle ore 14, piazzale della stazione centrale a Milano, ci sarà una manifestazione organizzata da un gruppo che si chiama Usciamo dal silenzio, è un gruppo di donne. L'obiettivo di queste donne è quello di difendere la legge 194 e soprattutto le libertà femminili. Questa è una cosa importante perché noi viviamo in una società in cui il monoteismo insegna, pretende e impone alla comunità, a tutti, che le persone, se uomini siano donne, siano sottomesse a un Dio e devono lavorare per questo presunto Dio, che devono essere sempre sottomesse a un qualcosa, che devono pentirsi, che devono peccare, che sono indegni. Allora questa manifestazione appunto che si terrà sabato 14 a Milano, appuntamento alla stazione centrale di Milano, alle ore 14, è una manifestazione importante perché fa emergere finalmente persone che non hanno trovato voce, sbocco. Di fatti il gruppo informale, il movimento che ha organizzato questo, si chiama Una voce del silenzio. Ed effettivamente c'è un silenzio che a definire assordante significa essere buoni. Tutto quanto si sta orientando appunto nel cercare di accontentare la Chiesa Cattolica e soprattutto di danneggiare i cittadini. E allora è importante, a mio avviso, che tutti i cittadini, al di là dello schieramento politico, delle preferenze culturali e anche religiose, si rendano conto che l'uomo, che la società, non è fatta per essere modellata su un Dio che non esiste, non è fatta per insegnamenti moralistici, non è fatta per piegare, dominare e controllare le persone, ma è fatta perché le persone siano libere. E allora, se uno si sente di dare un contributo, di essere presenti, di fare qualcosa allo faccia, nessuno li rinfacerà di non aver fatto, però sapete che l'inquisizione lavora con metodi violenti. In questo momento abbiamo delle leggi che garantiscono al nostro paese, non si sa ancora per quanto, una certa libertà. Gli individui hanno ancora una possibilità nella cultura, nella società, di avere delle posizioni differenziate. Il monoteismo tende a livellare questo. E anche le dire, tutte le dichiarazioni del signor Ratzinger e di chi lo segue e di chi lo va a venerare, danno una sensazione, danno un metodo di misura, un termometro della situazione. Quando i Vescovi parlano che non ci deve essere distinzione tra peccato e reato, sapete qual è quello che vi verrà prospettato in futuro? Che logicamente quelli che loro repono peccati di natura sessuale sicuramente verranno puniti. E il passo successivo sarà sempre quello di riannientare il peccatore, perché quel peccatore non si potrà mai essere abbastanza clementi, ma bisogna essere duri perché si penta. E quando questo peccatore, per i cristiani, per i monoteisti, vedranno che non si riconosce nei peccati, ma che rivendica, che chiede una libertà, una libertà che gli è innata, che gli è insita, che se la merita, che non gli è dovuta, ma che gli appartiene, sicuramente passeranno a metodi più drastici. E allora non è un grande sforzo andare sabato a Milano, perché c'è la possibilità alle ore 14 e partire dal piazzale Stazione Centrale per fare questa manifestazione. Io invito appunto chi ne ha la possibilità di essere presente o di far conoscere questa iniziativa, anche perché sicuramente i giornali e le televisioni saranno più impegnati a parlare di qualche cavolata, di qualche mostruosità, di qualche idiozia, che di parlare di cose che hanno a che fare con i decreti di cittadini. Questo appunto è un impegno, è un incontro che non ha una tinenza stretta con le nostre tematiche, però noi come sempre diciamo, dobbiamo sempre essere particolarmente attenti nell'osservare la realtà che ci sia attorno. Non possiamo farci sfuggire quello che accade, non possiamo voltarci ad un'altra parte, ma dobbiamo essere capire ed essere presenti ad osservare. E quando delle cose ci danno disgusto, quando delle cose non ci piacciono, quando delle cose ci suonano male e non sono simpatiche, è giusto che noi diciamo che chi ha possibilità o chi vuole fare qualcosa lo faccia. Ci sono altri due appuntamenti invece che erano una tematica più diretta con la nostra trasmissione, anzi tre. Allora, questa sera avremo ospite in trasmissione, l'amico Ettore Ruzza, che ci parlerà della realtà del mondo celtico. È stato un amico Ettore domenica a un incontro del Nord Italia, dei gruppi celtici, che hanno programmato tutta una serie di iniziative, di incontri, di manifestazioni, in cui lui ce ne parlerà. Perciò, appunto, per chi ha intenzione di essere informato sulla realtà del mondo celtico, questa sera troverà, appunto, Ettore pronto a risponderli e a informarlo. Poi, altri appuntamenti importanti sono domani sera. Domani sera, venerdì 13, alle ore 21, Montegrotto, al pub Inbolc, che è nella zona centrale, vicino alla stazione di Montegrotto, ci sarà il Venetian Pagamut. È un'iniziativa promossa da delle persone del Padovano, che vuole essere un'occasione di incontro, una possibilità di incontro, di conoscenza, di scambio informale fra Pagani e Viccan del Veneto. La cosa è stata abbastanza pubblicizzata, conosciuta, però è importante che ci siano delle momenti, chiamiamole di aggregazione, di incontro, di possibilità, di discussione, di conoscenza, anche così fatti, diciamo, alla buona, fuori da una veste ufficiale. Questa è una delle iniziative, appunto, di vari incontri, è un'iniziativa che sta partendo. Ce n'è stata a dicembre una a Marghera, che purtroppo l'abbiamo saputa troppo tardi per dare le pubblicità. Comunque l'amico che l'organizza, Gian Paolo, della lista VK News, mi ha detto che verrà fissata o gennaio-febbraio a un altro incontro e quando ci sarà la data sicura andremo a informare anche questo. Però io invito gli ascoltatori che hanno un desiderio di incontrare pagani o di incontrarsi, di discutere di tematiche pagane di trovarsi, appunto, domani sera a Montegrotto Termi, alle ore 21, presso il pub Inbolc, per questo appunto Venetian, Venezian, pronunciatelo come volete, tanto per... Io avrei preferito Venetian, come definisci tu, ma comunque, non essendo io lo sceglitore della sigla, accetto quello che viene proposta. Pagan Mut, che è praticamente un nuovo neologismo inglese, come non ce ne fosse abbastanza, va bene, io avrei preferito o il Veneto o l'italiano, però, visto che è una tradizione come tipo di organizzazione, di orientamento derivata, mutuata dall'ambito anglosassone, accettiamo questa scelta. L'importante è che le persone abbiano dei luoghi, delle possibilità di incontrarsi, di discutere, di conoscere, di farsi conoscere e di scambiarsi le cose, perciò ogni appuntamento è sempre positivo. Allora, ricordiamolo per l'ultima volta, venerdì 13, ore 21, Montegrotto Termi, pub Inbolc, questo incontro pagano, ci sarà un tavolo con un po' più la scritta, così non c'è neanche bisogno di chiedere dove siamo. Altro incontro collegato direttamente alla nostra tradizione, come mai chiamiamola, perché ricordiamo che questa trasmissione ha già 10 anni di vita, ha già appunto un numero consistente di trasmissioni sempre dal vivo, i numeri dei telefoni per interviene sono 049 700 700, c'è già un ascoltatore, sì, pronto? Buongiorno, è la radio che non va un po'? No, la radio funziona, quello che vedo io è funzionante. No, non si sente mica la trasmissione un po'? Come, non si sente niente? No, ha fiesso. Ha fiesso, beh, so che già altri ascoltatori della zona di Venezia saranno lamentati, faccio una verifica qua a vedere se... Perché pensavo che fosse domani, ho detto, ci sono sempre una musica e basta. No, beh, musica in questo momento no, perché stiamo parlando in diretta. Eh, non si qui di Giova, no di... Mamma mia. No, hai sbagliato la mia Maria, forse io. Dimmi. No, no, ho sbagliato, 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 ho sbagliato il nome Claudio, no? Claudio non c'è. Eh, ora è stato con questa... Sì, io sono Francesco, sì. Ecco. Arrivederci. Eh, io ci ho trovato? Adesso proviamo. Eh, però, a caso me io farò delle verifiche, però... Eh, perché non si sente niente? A te la farò delle verifiche. Va bene, grazie, scusa, scusa. Mi affigliati, ciao, ciao. Spero che si senta tutto, perché almeno qua dei segnali, dei strumenti della regia, mi sembra che tutto sia a posto. Sì, pronto? Pronto, ciao. Sì, scusa. Sì, ciao. Tu senti la radio, sì? Sì, 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 perfettamente. Però la nostra amica, probabilmente, la senti organizzata su Radio Maria, è sbagliata. Sì, sì, sì. Presidente, stamattina so che ho trovato Massimo Donà, Serenità, no? Sì. Una passione che libera. Sì. Dunque, ho avuto che te lese... Sì, beh, ho visto che Massimo Donà è un segnante di estetica all'Università di Milano. Infatti, ha un bel retro pagina, retro... Dunque, chiunque si è interrogato su quale sia il dono che più ardentemente vorrebbe un giorno ricevere dagli dei, risponderebbe un po' di serenità. Eppure la natura di tale stato d'animo è quanto mai misteriosa. Tutti la desiderano, ma forse nessuno sa bene di cosa si tratti. Nulla a che fare comunque con felicità, gioia, soddisfazione, contentenza, esperienze, quest'ultime, destinate alla radicale inafferabilità dell'attimo fuggente, così ben tematizzato da Orazio. Il sentimento qui interrogato riguarda infatti l'Eterno, un Eterno perfettamente immanente, tra virgolette, però, che non osa strapparsi via dal gioco della temporalità e incantarsi con la favola di una salvezza sempre di là da venire, che non va confusa, cioè con quanto vanamente promesso da troppe utopie, sia laiche che religiose. Un'altra specie di serenità, che vive incontaminata in ogni nostro gesto, liberando il profumo di una verità che ognuno di noi potrebbe disporsi a rammemorare, che non deve essere vincolata a questa o quella forma di appartenenza e neppure agli infiniti desideri che da sempre ci condannano a forme più o meno tragiche di fallimento esistenziale. Una serenità, insomma, che anche i tali naufragi possono far diventare occasione di quella che già Dante si risolveva a definire, senza ulteriori aggettivazioni, vita nuova. Ecco, dopo qua dentro che c'è degli episodi, dei periodi, c'è degli episodi, insomma, è un saggio. Si, bene, ha scritto diversi interessanti, ha scritto anche uno sulla magia che è veramente buono. Sì, beh, infatti dico un autore che in ambito accademico riesce ad esprimere, a portare fuori, a fare mesi a delle tematiche interessanti. Sì, beh, ma è quello che abbiamo sentito anche nelle varie trasmissioni da Auger. Sei stato sempre ospite, sì, cominciamo bene le storie, mi sembra che sia la trasmissione che ti fai riferimento. Sì, sì, cominciamo bene. Ho anche altro quello sulla magia. Infatti, ma anche questo deve essere ben impostato come, come, io ho dato una scopra così. Buona lettura allora, Milano. Sì, sì, anche. Eh, ma te sai che io ho tanti iniziai. Beh, io ne ho migliaia di iniziati che aspettano di essere terminati. Cioè, nel senso che deve essere letti o i letti. Sì, ma che no, che a me tanti quasi a fine, no? Quasi alla fine manca magari 50 pagine, però... No, no, io ne ho tanti che ho visto solo la copertina, perciò. Sì, comunque. Comunque dalla, da retro, della pagina retro... Sì, dalla quarta di copertina? Si riferisce qua all'idea, comunque in ogni caso... Vedete, se parli di felicità, posso solo riferirti al paganesimo, alle culture antiche. Non ti ho appoggiato a riferire a Gesù Cristo, perché felicità ne vediamo ben poco, insomma, è tutto cristianesimo. Lui parla qua di serenità, appunto, e parla degli dèi, appunto... Chiunque si è interrogato su quale sia il dono che più ardentemente vorrebbe un giorno ricevere dagli dèi, risponderebbe. Un po' di serenità. Ecco, cioè, va avanti e così, insomma, comunque... Bene. Grazie per la segnalazione. Che altri, non ho trovato niente, ancora, non ho trovato niente, va bene che sarei feste e... Che altro libro, guardate, c'è? Sì, sì. Aspettaio. Poi, c'è un articolo qua su... Sulla Repubblica, il Pax, che sai che c'è il raduno del Pax? Sì, sì, beh, ho parlato appunto delle manifestazioni prima che ci sono a Milano per quanto riguarda l'aborto. Sì, sì. So che ci sono delle polemiche per quanto c'era una manifestazione sulle copie di fatto appunto a Roma. Contro il raduno, l'ira della Chiesa, lo Stato non può ignorare le istanze di milioni di cittadini vaticano o omofobo. Sì, beh, purtroppo il Vaticano non è solo omofono, ma è nemico dell'uomo per usare un termine vecchio, insomma. Sì, 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 beh, non possiamo lasciare perdere perché loro non ci lasciano perdere. Esatto, questo è il problema. Sì, ma è importante vedere ben delineata la cosa, capisci? Sì. Cioè, intanto, dopo, purtroppo, non ci lasciano perdere, no? Perché non ci fa fatica sganciarsi, insomma. Sì, ma loro non si possono sganciare. Cioè, la violenza è l'anima insita del cristianesimo. Se non, ragazzi, che non può essere diverso perché se sarebbe diverso non sarebbe più cristiano. Esatto. Cioè, è la natura del cristianesimo quella, purtroppo, di essere impositiva e violenta. È la parola di Cristo che attacca, dè pericolosa per la vita, per il mondo, per la società. Finché sarà qualcuno che penserà che Cristo ha detto qualcosa di positivo, saremo sempre in pericolo. Sì, ma dopo anche tutto il sistema è suo, non può lasciare perdere un soggetto. No, no, ma quello, cioè, Stefano, sai, il peccatore deve sempre essere sottomesso. Esatto. Perché io li ho mille sistemi, cioè, naturalmente li usa tutti. Sì, sì, e continueranno a usarli tutti, finché non ci sarà... Perché il problema non è tanto quello di bloccare con delle leggi, è creare una cultura, una visione del mondo, in cui non sia concepibile l'immagine del Cristo salvatore, o di un Cristo positivo o benefico. Esatto. E questo è il lavoro più grosso, cioè, proprio il lavoro sulla cultura, sulla capacità di vivere. Sulla cultura, è questo che temo, capisci? Cioè, un incremento, c'è un'ingerenza, diciamo... Va bene, noi combatteremo, faremo la nostra battaglia, noi non cederemo, non... Sui libri, sui libri più... Sì, l'importante è combattere, cioè, nel senso, è non arrendersi mai, dire, cioè, io non mi arrendo, io combatto, io rifiuto questo, io provo disgusto per questo, e il mio discorso lo smanifesto, lo concretizzo in qualcosa. Come diceva Nietzsche, abbiamo bisogno di piccoli atti di coerenza, cioè, non servono grandi imprese, non servono cose titaniche, ma serve un qualcosa, un piccolo atto di coerenza, proprio per far saltare e bloccare questo meccanismo della sottomissione. Perché il libro, che sai, che porta il pensiero... Il libro è un mezzo, esatto, ma d'attronde la prima cosa che fanno i monoteisti è sempre quella di bruciare i libri, di mettere l'indice dei libri... O bruciarli o farli suoi, cioè, far su il discorso... Sì, deformandola. Io, guarda, io ho visto, tanto per dire che è quasi del comico, se forse ne parlerò nella trasmissione, che ad esempio era intervenuto Le Goff, che era uno storico del Medioevo, che aveva scritto un libro sul limbo, e lui era intervenuto con un articolo sul Corriere della Sera per dire alcune cose. Subitopo è venuto a dire, no, Le Goff intendeva dire, e quel suo libro voleva significare, cioè, erano più capaci di interpretare, addirittura, l'interpretazione autentica dell'autore, cioè, non rendi conto? Cioè, questo è proprio tipico dei cristiani, perché i cristiani sono sempre a dire, voi siete dei peccatori, di una razza indegna, voi siete un qualcosa di negativo. E se arriviamo a quel punto, al campo intellettuale, che il Messori dice, fa no, Le Goff, col tuo libro volevi dire questo. Sì, appunto, cioè, ti ti vuoi dire così, e non è vero quel che ti hai detto, che ti vuoi scritto, che ti hai scritto. Sì, certo, ma la falsificazione è insita in ogni monoteismo, in ogni profeta. Un profeta è sempre un menzognero, sempre qualcuno che inganna, perché ha una verità da imporre, ha una verità da sottoporti, da farti accettare, e di conseguenza la profezia monoteistica è sempre pericolosa, proprio perché ha sempre a dire, io sono il profeta, sono l'illuminato, ho la verità, e tu sei una persona indegna. Esatto. E questo è il pericolo di ogni monoteismo, che sia ebraico, cristiano, cattolico, insomma, musulmano. Va bene. Francesco, grazie a spazio. Grazie. Ciao Ivano, grazie per l'assignalazione del libro. Sì, perché dei libri sono sempre un piccolo mattone per la cultura, per la conoscenza, l'informazione. Sì, pronto? Pronto? Sì. Ciao. Sono Guido da Camposentiero. Ci conosciamo. Sì, beh, quando ci sono io, chiami sempre, perciò ho messo una voce familiare. E' capitato tra le mani il libretto di Giacomo Leopardi, lo Zibaldone. Sì. Che penso che siano pochissimi quelli che si azzardano di leggerlo, perché contiene di tutto. No, sai Guido, penso che il problema sia, come diceva qualcuno, se vuoi farlo odiare a un autore, devi farlo studiare a scuola. Eh, anche. E purtroppo, secondo Leopardi, viene insegnato a scuola, quasi tutti lo odiano. Ecco, comunque ho trovato una frase, l'ho anche qui scritta, e dopo vorrei trarre le mie conclusioni per sentire se tu le condividi. Dunque, niente preesiste alle cose, né forme o idee, né ragione di essere, di essere così o in modo diverso. Cioè, tutto è posteriore all'esistenza. O è contemporaneo all'esistenza. Allora, dico, il cattolicesimo, o il cristianesimo, propone un Dio che crea, che crea tramite la parola. La parola, se è vero il pensiero, ha un fondamento del pensiero di Leopardi, che niente preesiste alle cose, prima esistono le cose, e poi la parola. La parola, infatti, non è altro che una descrizione di una realtà. Ecco, quindi, quando Dio ti dice fiat lux, ecco, usa una parola per indicare una cosa. Ma la cosa preesiste prima, quindi Dio crea la luce, quando la luce già esisteva, e usa la parola per definirla. Non so, è chiaro? Sì, beh, sai, nella Bibbia c'è scritto che il mito era la parola, la parola era presso Dio, la parola era Dio. Cioè, è scritto nella Bibbia, perciò... Sì, ma volevo dire... Per lui, c'è capito, se in nominare le cose, se qualcuno va a scuola di filosofia e ti fa un po' di semantica, sì, ecco, e gli c'è lo studio del significato, del significante, eccetera, la parola, come si può dire, è l'abito che riveste una realtà che preesiste ed è al di nuovo. descrizione e una comunicazione della cosa. Dio di semantica non ne capiva niente. Ma è quello sì, questa è una certezza che abbiamo. D'altra parte, si dice, ma a Dio tutto è possibile. Un momento, perché Dio, intanto, è comprensibile agli uomini in quanto anche lui rispetta le leggi e che ha imposto agli uomini, infatti, siamo fatti, stando nella loro logica, la sua immagine e somiglianza. Quindi anche per Dio due più due fa quattro, uno più uno fa due. Insomma, non è che per Dio questo sia possibile, mentre per l'uomo è inconcepibile. Ma se tu pensi che il Dio dei cristiani è razionale per l'uomo deve essere rispettato anche da Dio come in qualche cosa di razionale. Quindi Dio non può creare con la parola. Ecco, perché questo presuppone l'esistenza della cosa indicata dalla parola. Sì. Quindi, quando dice Fiat Lux, la luce già esisteva. E ha usato soltanto una parola per definirla ma non per crearla. La parola carattere è descrittivo, non creativo. Ecco, questa è la grande questione della logica fatta da Dio. Evocativo. Un'ultima cosa. Peccato originale. Ma com'è possibile che l'uomo uscito perfetto dalle mani di Dio abbia peccato? Com'è che ti spiega la teologia? La teologia dice è peccato perché il peccato ha corrotto la natura dell'uomo. Quindi il peccato è causa di se stesso. Anche qua la logica va a farsi fottere. Ma non c'è logica. Insomma, abbiamo un Dio ovvero chi ci descrive Dio che è sommamente irrazionale. Insomma, se esiste è irrazionale. Ecco, altro che non so verità con la V maiuscola si intende e tutte queste cose abbiamo un Dio balordo che è figlio del caos casomai non lo so? Beh, a parte che è un Dio inventato. È un Dio inventato. Comunque, secondo la teogomia di Esiodo gli dèi nascono dal caos. Emercono dal caos. Escono dal caos primordiale. Se esiste il caos ecco che è un qualche cosa di informe ma potenzialmente sì ma prima c'è anche per Esiodo prima non c'è il nulla. Ecco, ecco. C'è il caos che contiene tutto. Comunque è anche e concludo e concludo. Sì, ho cercato di fare anche un paragone tra la teogonia di Esiodo e quella della nostra religione. L'una ha un carattere più credibile di carattere vorrei dire scientifico materiale chimico eccetera. Per esempio Gea che è coperta da urano ecco significa la terra e il cielo è un qualche cosa di materiale che è visibile e la terra dice coperta da urano ne è fecondata e produce nel suo seno le divinità che sono impedite di uscire perché urano le preme sopra e una volta poi viene staccata e quindi tutto ciò che urano ha creato nel seno di Gea fuoriesce sono principi di meccanica il cielo il cielo si separa dalla terra l'uomo adotta il principio lo capisce che dalla separazione può avvenire la diversificazione qualcosa di diverso che prima invece era tutto messo assieme cioè la creazione viene spiegata con dei principi materiali fisici cioè la forza di gravità queste cose qua non la parola ecco questo volevo dire Guida posso chiederti una cosa è raggiungibile il tentativo fatto dagli antichi greci poi anche romani di spiegare insomma il nascere della vita del mondo è vero Guida posso chiederti una cosa ma questa tua analisi di comparazione bibbia esiodo della teogonia l'hai messa per scritto è raggiungibile guarda io sto parlando da una stanza diversa mi senti mi senti sono anche un po' sordo Guida mi senti mi senti adesso allora sta attento volevo chiederti ma questa tua comparazione tra esiodo la teogonia e la bibbia l'hai messa per scritto è raggiungibile è possibile averla in qualche maniera perché sono curioso anche di conoscere cose io leggo tanto queste mie idee non le ho elaborate io sono frutto di letture ci sono parte le ho acquisite le ho elaborate io insomma quello che tu hai elaborato non l'hai messo per scritto perché non l'ho messo per scritto sì non l'hai messo per scritto quello che hai elaborato l'ho solo pensato sì dunque io ho fatto liceo classico adesso sono vecchio è un tempo da perdere ma non è tempo da perdere questo sì ecco però leggo ancora tanto come quel signore che ti ha telefonato sì Ivano ecco che sento sempre che frequenta le librerie eccetera e io sono uno di quelli che legge però penso ancora cercando di capire ma quello è essenziale non si capisce niente ma non troverai mai la verità cercherai sempre avere sempre conoscenze la verità? non troverai mai una verità non esiste una verità chi? non esiste una verità cioè nel senso che tu uno cerca per conoscere per comprendere ma non per trovare la verità la verità sai passa attraverso il valio di una vita visita ormai io ho anche una certa età non è che la cerchi nei libri la confronto anche con quello che mi è accaduto nella vita ecco perché se nel libro che io leggo e trovo la descrizione di un Dio che è sommo amore eccetera dopo la vita però lo smentisce perché vedo che c'è tanta sofferenza e Dio non interviene mai a lenire questa sofferenza dico sono balle quello che mi raccontate beh quello è vero quello che trovo scritto nei libri ormai ho una certa età per è come si può dire variarla attraverso la vita la verità la verità perché tu ti ricordi che io una volta ti ho contestato che ho detto che non puoi dire che non esiste la verità perché se no ogni ricerca sarebbe a priori vana sì ma vedi questo è sì esatto è un problema finalistico nel senso che noi non dobbiamo porsi la verità la verità esiste altrimenti non avrebbe neanche senso possono esistere delle verità le nostre valutazioni perché se a priori si valuta come senza valore il valore è una frase di un detto no ma vedi ma Guido non si dà un discorso di valore cioè si dice che appunto io posso la mia esperienza non è finalizzata la verità ma la conoscenza la percezione e il contatto di conseguenza anche una cosa che è falsa per me è vera alla fine è vera no ci deve essere un principio che trascende l'individuo il miraggio il miraggio bisogna trovare qualche cosa invece che ci unisce il miraggio 2 più 2 lo condividono tutti 2 più 2 è una convenzione è la nostra convenzione e questa cognizione tu puoi dire che ha valore in quanto è vera si è vera perché noi accettiamo che 2 più 2 faccia 4 perché la nostra cultura dice questo perché noi abbiamo il bisogno dei numeri perché la nostra mentalità la nostra civiltà la nostra cultura ha usato certi strumenti che altre civiltà o certe culture non hanno sviluppato quando per esempio anche il Cristo portato di fronte a Pilato il Cristo viene chiesto cos'è la verità e lui non risponde esatto ecco perché non può fare riferimento alla verità quello che lui diceva su qualche cosa era forse malato in testa quel uomo esatto era pazzo per essere buoni dai se fosse stato un filosofo avrebbe risposto a Pilato gli avrebbe detto sì la verità per me la verità adeguazio rei dell'idea alla cosa sarebbe già una spiegazione una realtà esterna anche appartenente al mio mondo interiore la descrivo e sono sicuro certo di questa descrizione ed è condivisa da tutti per me la verità è questa è una verità scelta se non sia difficile conseguirla è un altro discorso bene ma il Gesù Cristo non si è mai impegnato in discorsi filosofi assolutamente ma in asserzioni dogmatiche di dogma assoluta lì come verità ma se tu gli chiedi di dammi una dimostrazione il povero uomo si impapperano esatto ma tazze esatto tazze bene grazie Guido perché ho filosoficiato anche tu nessun problema grazie ciao Guido ciao Guido si la filosofia è come dite voi dolce perché a differenza della religione non è autoritaria non dice io possiedo la verità e tu apprendila perché è persuasa che la verità anche se incompiuta imperfetta è mescolata a tanti errori dimori in ciascun uomo e maestro è non chi trasmette la verità ma chi aiuta gli uomini a trarla fuori dalla confusione delle loro opinioni anche se in contrasto con le idee più diffuse e da tutti condivise quando chiesero a Socrate che cose insegnava lui rispose che non insegnava niente perché era ignorante ma aiutava coloro che ritenevano di sapere qualcosa a fondare le loro opinioni con argomenti solidi in modo che stessero in piedi da sole e che e non per l'autorità di chi le annunciava per la fede in credenza infondate per impatto emotivo per la suggestione degli affetti chiamo epistemi il sapore filosofico la parola greca che noi traduciamo con scienza ma che letteralmente significa ciò che sta in piedi da sé siccome riteneva di non essere in possesso di alcuna verità da trasmettere paragonava il suo lavoro a quello di una madre che aiuta le partorienti a generare allo stesso modo lui aiutava i suoi discepoli a partorire la verità che segretamente e spesso a loro inseputa costudivano chiamò questo metodo filosofia che significa amore per il sapere distinguendo la sofia dei sapienti che non amano il sapere perché ritengono di possederlo amore infatti non è possesso ma ricerca tensione e desiderio della cosa o della persona amata per questo nel racconto che ci fa Socrate amore non è figlio di Afrodite ma di Pegna che significa penuria povertà essendo povero amore non possiede e perciò cerca allo stesso modo della filosofia che non possedendo alcuna verità ne va alla ricerca come i bambini che non nascondono con le verità in tasca ma con un mucchio di domande che sono un invito alla ricerca il mondo adulto che pensa di sapere come stanno le cose non presta attenzione a queste domande così che restano morte e nevase mentre potrebbero mettere in crisi le risposte che già gli adulti sono dati ai problemi della loro vita e cambiare così la visione del mondo in conclusione la filosofia non è sapere ma un atteggiamento l'atteggiamento di chi non smette di fare domande e di mettere in crisi tutte le risposte che siamo definitive per questo atteggiamento filosofico è la macchina capace di inventare il mondo possibile al di là del mondo reale queste erano le parole di Umberto Ungariberti che chiamate inventare un mondo possibile e quello che appunto noi vogliamo sempre fare come persone è quello di inventare un mondo possibile significa con quello che abbiamo a disposizione con quello che conosciamo con quello che percepiamo con quello che vediamo con quello che ci attuale intorno con quello che è tangibile e sensibile non con quello che è inventato e difatti appunto dicevamo il monoteismo ha sempre la pretesa di essere prima delle cose il monoteismo pone un Dio creatore una volontà esterna alle cose noi sappiamo che prima delle cose c'erano solo queste cose c'era solo la volontà all'interno delle cose e nessuno gliela ha spinto nessun disegno intelligente si pronto? pronto? adesso ancora me ciao De Gallimberti c'era un articolo oppure un libro sapevo che a Rittero infatti ho aspettato a passarti l'ho fatto soffrire volutamente sapevo che a Rittero l'ho detto Ivano lo facciamo pazientare che sicuramente vuole andare a caccia di questo testo di Gallimberti e se io fossi cattivo non ti dicessi niente da dove hai preso? ma no è come ieri quando ho telefonato sento telefonato per cercare un libro e ho poco trovato stamattina bene e io potrei essere cattivo la Beffana mi ha portato tanto carbone ora quest'anno ma di Gallimberti che ne cosa ha non so e io potrei essere cattivo non dirti dove hai preso e dici ma mi manca? no ecco Ivano sono buono dai così la Beffana quest'anno non mi porterà altro carbone e questo è un articolo tu leggi la Repubblica ogni tanto questo sai che c'è un certo femminile che si chiama D la Repubblica delle Donne sì 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 sabato questo no 26 novembre 2005 26 novembre 2005 sì e dovrei avere perché ogni tanto prendo anche quello però comunque se tu hai problemi a recuperarlo vai su internet e sul sito ti danno tutti gli articoli di Gallimberti sì sì va bene? sì perfetto ciao Ivano non sei capace di essere cattivo beh non posso non posso essere cattivo con te dai non sei scadiano non posso essere cattivo con te non sa di cosa va bene ciao sai Ivano sì che appunto l'importante poi diciamo è usare gli strumenti come internet per avere conoscenze per avere informazioni per cercare notizie per ricordare cose anche perché proprio noi stiamo assistendo a un brutto termine che è quello della purificazione della realtà che ci siamo attorno nel senso che stiamo vivendo in realtà in cui tutte le cose che non sono politicamente corrette vengono cancellate vengono fatte sparire vengono annientate proprio perché si cerca di uniformare su un pensiero unico sei pronto? sì ciao stai attento mi faccio una valutazione è a matematica è una logica è a geometria è una logica però a natura è una sua logica sì perché te vedi che il fiume non è solo da montagna verso il mare non è una linea retta e fa quello che vuoi io sì per cui vuol dire che è la logica è quella reale che risponde a delle cose superiori che non è come qualcosa cioè piano quale logica c'è a superiore al fiume che risponde alla realtà no a dio risponde a se stesso al suo desiderio certamente a se stesso per cui risponde soprattutto alla sua natura alla sua natura che è natura fonte di realtà no piano la sua natura intrinseca le sue qualità la sua materia la sua organizzazione risponde a quello che ha scelto di essere ma questo fa parte di una roba logica e reale è una roba sensibile tangibile perché non vediamo il condizionamento né dell'umano né del divino né del fiume secondo me ma il fiume è già divino di per se stesso non ha bisogno di essere battezzato consacrato è già una divinità e penso che anche una persona umana se ne va via in battezzà e violentà con tutte quante le robe può dare a essere logica e rispondere alla realtà purtroppo io penso come te abbiamo avuto la disgrazia di essere battezzati però questo qua non ci ha a certo reso menomati ma ci ha reso persone che hanno subito una violenza ma sono capaci di liberarsene insomma purtroppo noi abbiamo avuto questa disgrazia dei genitori che per condizioni ambientali ci hanno battezzato esatto purtroppo questa roba qua però mi sono andato a fonte e ho visto che Drio al battesimo questa sta una involontaria o volontaria delega dei genitori a far sì che il boggia fosse incosciente sì purtroppo i genitori hanno consegnato hanno portato a marchiare come il bestiame che si porta i pastori vanno a marchiare per riconosciare il loro capo invece che cavare il peccato origina e che vengono i mentaiori inibiva la coscienza perché quando che dopo il boccia che domandava giustamente perché e che altri che rispondeva che se è un mistero capisci che questo qua non puoi altro che se gli credi deve stare incosciente perché ti taglia rispondi con la logica con la coerenza e poi dici una volta ne scontavano altri che nascevamo sotto il cavolo e una volta che erano più grandi capivamo che noi erano sotto il cavolo ma dire quando vengono i misteri resta sempre misteri forse qualcuno il mistero è come questa religione possa ancora mantenersi nelle tese delle persone ma solo che andiamo a discutere non serve niente le persone sono mi comandare a mingo con cui mi si andava in mezzo a natura dove che non c'era condizionamenti almeno per me e lo trovo a tutto e anche il punto è dei uri ma che siete più che faccio dei ragionamenti razionali che puoi capire anche i bigotti no e anche i spaggiatori dei particoli e del puttanale cioè io ridisco che qua Fede li puoi spostare le montagne allora il Val de Susa che è una montagna che rompe il scatto perché ha l'amianto là li prega tra i ori i valdesi già chi chi vuole li sposta la montagna li fa il tunnel e poi li metti le montagne insieme ma non sarebbe semplice bisogna dimostrarlo o no puoi proporlo scusa puoi riciclarti come consulente e dire vabbè risolviamo il problema in questa mania insomma guarda che sarebbe una soluzione qua che se qui da Val de Susa che non vuole e il governo che vuole che se di costi Iuri che i luoghi dichiarava quando chiesa nati che a Fede sposta le montagne e anche una che rompeva e sposta un attimo e la rimetti a troppo simile e dopo te capisci che finché era solo Iuri a rendere incoscienti e dalla vita la morte e che contava la storia l'osso alla fine che forse andava in paradiso per cui non sa mai tornare a nessuno a dirlo ma adesso se arriva che altri col baucometro e credito visto che chiesa di baucchi che mi casà for mai noi altri gli gestimo è quasi è a fine del mondo perché col baucometro gli dice che quello che dice è il baucometro non può essere contestato e io gli dice quello che vuole perché visto ultimamente è l'influenza dei polli che io questo è un problema secondario cioè nel senso che se tu pensi il fatto stesso del battesimo quanto è importante per dire perché salvare il bambino se tu pensi che ad esempio adesso stanno pensando di far fuori il limbo di far fuori il purgatorio e poi racconto delle cose che sono veramente tremende e terrificanti se tu pensi che sostengono che tramite le messe si può far cambiare la situazione delle persone dopo la morte e vabbè questi sono peggiori addirittura anche degli stessi smaghi a villa di tigli se puoi sempre come chiamano a pantani mandiamo a cano e riabita via di mente qua nei colli chiamano villa di tigli via di mente insomma guarda che questi qua continuano a parlare a dire quello che gli dice e la gente ti senti guarda che ho sentito questo e si è preso per i fondelli sì ma la gente crede alle cose assurde ma è un problema della gente l'importante è che non ci crediamo noi il problema è che non ci crediamo noi questo è l'essenziale se gli altri vogliono essere masochisti lo facciano pure ma la cosa che devo passare pal baucometro che l'influenza di poi l'idea è poi andare verso oveste ma io sei migratori che è sempre andato da nord a sud mi può andare verso l'est e verso l'america è uno che ne parla è una roba logica te ricordi ma che mi ha gogiapà via telepatica non sta roba qua perché certe robe se troppo vieni qua magistrato a domandarti ti ricordo chi era in cerca dell'antracce e io che la trovai in america allora vuol dire che il primo caro che canta che ha fatto l'uovo che se siete che riesce a intendere mi vi ho volito dopodiché ormai meno cambio quello che può succedere ma ve lo dico cosa che succederà in futuro ognuno deve fare delle proprie scelte dei responsabili bene ciao tanto per dare un esempio della follia si lamenta molto dei maghi dei presunti cartomanti e così via lega questa frase la liturgia conosce da sempre l'intercessione per i difunti dunque l'esistenza di uno stato dove la permanenza può essere accorciata o alleviata qui la chiesa si è impegnata con definizioni di fede il purgatorio alla pari del paradiso inferno non seguirà la sorta del limbo parola di catechismo allora la liturgia conosce da sempre l'intercessione per i difunti dunque l'esistenza di uno stato dove la permanenza può essere accorciata o alleviata queste sono le parole di un grande scrittore cattolico di Vittorio Missori allora pensate cosa arriva a dire questo che una persona morta può stare al purgatorio o si può spostare da qualche altra parte se c'è un'intercessione esterna tramite ad esempio le messe per i difunti ma allora noi ci andiamo a lamentare dei maghi dei cartomanti di chi fa magia di chi pretende coloros puoi sapere qualcosa dicono che sono bugiardi che sono mentitori e che però hanno sempre più una possibilità un cartomante ha il 50% di possibilità di dirla giusta o di dirla sbagliata di conseguenza ha un'altissima probabilità di azzeccare e di essere verificato soprattutto ma come si può verificare l'affermazione la liturgia conosce da sempre l'intercessione per i difunti dunque l'esistenza di uno stato dove la permanenza può essere accorciata o alleviata e logicamente noi abbiamo migliaia di chiese che organizzano le messe per i difunti perché queste messe per i difunti servono per far passare le persone dal purgatorio al paradiso e questi non vengono considerati ciarlatani come i cartomanti come i maghi e come gli astrologi penso che un astrologo sia decisamente il più serio di un teologo ma questo proprio succede proprio perché la cultura cattolica cristiana monoteistica ebraico cristiana tutto quello che ha a afferco il monoteismo porta sempre alla cancellazione delle capacità delle persone il cattolicesimo il cristianesimo il monoteismo è un problema per tutti ed è un problema non soltanto per la gente che ha avuto la sfortuna di essere povera o di vivere in situazioni estreme anche gente che è ricca che può vivere in grande paese può avere questi problemi derivati dal cattolicesimo dal cristianesimo del monoteismo io prendo un'intervista a un'attrice famosa Susan Sarandon questa dichiara in una sua intervista dice che lei sono la prima di nove figli di una famiglia cattolica non ho ricevuto un'educazione da cui è facile affiancarsi nelle preghiere che recitavo prima di la documentazione chiedevo che i comunisti non venissero a torturarmi poi è andata dice ancora prima sono andata all'università cattolica e mi sono sposata dice mi sono sposata per ragioni pratiche non perché fossi pronta a impegnarmi vivevano insieme e se ci avessero scoperto ci avrebbero cacciati dall'università tutto perché un discorso moralistico cattolico ma cosa si trova una persona che ha vissuto così la domanda è playboy l'ha corteggiata per anni come mai non ha mai accettato di posare nuda l'educazione cattolica risponde la Sarandon me l'hanno chiesto per circa 20 anni devo aver pranzato con i direttori almeno 25 volte e il compenso che mi offrivano diventava ogni volta più alto alla fine mi ero quasi decisa a farlo quando sono rimasta incinta sono giudici severi i suoi figli viene chiesta la Susan Sarado loro non sono interessati ai miei film non vogliono non vedermi baciare un altro non vogliono nemmeno vedermi mentre bacio il loro padre all'innocente attribute però mi hanno accompagnato c'erano David Bowie Gore Vidal e altri che dicevano cose meravigliose sul mio conto e poi hanno mostrato aspezioni di film giuro non si è visto mai nemmeno un capezzolo eppure mio figlio scandalizzato mi ha detto ma ti sei mai posta il problema che un giorno avresti potuto avere dei figli la domanda del giornalista è playboy a questo punto si sono messo il cuore in pace un giorno mio figlio è tornato a casa e mi ha chiesto ma è vero che hai fatto anche una vampira lesbica il film era Miriam si sveglia a mezzanotte e la sua era una sintesi un po' faziosa si direi che con playboy la partita era davvero chiusa allora una grande artista un'attrice che l'educazione cattolica ha completamente sconvolto si pronto 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 si salve sono il presidente onorario della associazione Marco Pantane ciao Paolo